11 misure cautelari tra Basilicata e Campania sono state eseguite dalla Direzione Investigativa l'antimafia di Basilicata e del gruppo Carabinieri per la tutela ambientale e la sicurezza energetica di Napoli al centro dell'indagine un traffico di rifiuti con la Tunisia mentre il capo clan Savinuccio Parisi risponde alle domande del GIP dicendo di non aver mai conosciuto l'ex consigliere regionale in una intercettazione ambientale emerge che Giacomo Olivieri si sarebbe più volte definito intoccabile questi gli ultimi dettagli dell'inchiesta della DDA codice interno che lunedì ha portato alla luce la rete tra mafia politica e colletti bianchi nel capoluogo pugliese con 135 arresti chiusa la partita in casa centro-destra Forza Italia riconferma i due uscenti Berdi e Cirio ha prevalso il buonsenso ha detto Antonio Tajani il centro-sinistra dopo la vittoria in Sardegna guarda con più attenzione al campo largo Buongiorno e bentrovati, consueto appuntamento con l'informazione interregionale di Antenna Sud 16 le persone indagate, 11 le misure cautelari tra Basilicata e Campania sono state eseguite dalla direzione investigativa antimafia della Basilicata del gruppo Carabinieri per la tutela ambientale e la sicurezza energetica di Napoli al centro dell'indagine un traffico di rifiuti con la Tunisia Francesco Cutro L'indagine coordinata dalla procura distrettuale antimafia di Basilicata è condotta dai Carabinieri del nucleo operativo ecologico di Salerno e dalla DIA di Potenza e che ha portato a 11 misure cautelari costituisce lo sviluppo e l'esito di una complessa attività investigativa che ha consentito di individuare baste operazioni di trasferimento all'estero soprattutto in paesi africani di rifiuti con elusione dei controlli e conseguenti danni all'ambiente e alla salute dell'uomo ad opera di soggetti italiani gli intermediari accostati a clan calabresi e le aziende campane con la complicità di intermediari stranieri avrebbero organizzato il trasferimento all'estero di diverse tonnellate di rifiuti che sulla base della normativa vigente non potevano essere esportati verso soggetti del tutto privi della capacità di trattarli, recuperarli e smaltirli regolarmente e dunque destinati ad essere incendiati o illecitamente abbandonati e interrati in Africa Ma è la dimostrazione di come gli animal spirits del capitalismo vanno controllati perché per recuperare costi non si può pensare di trasformare i territori vicini, i paesi vicini nei luoghi di smaltimento di ciò che noi, dei nostri rifiuti Per quanto riguarda lo smaltimento illecito in Italia, come confermato dal tenente colonnello Starace sembrerebbe che l'area maggiormente utilizzata dalla malavita organizzata per il seppellimento sia quella del Foggiano Esattamente sì, le evidenze investigative di questi ultimi periodi le segnalazioni che ci arrivano da quelle aree, dalle forze di polizia a competenza generale le indagini che abbiamo in corso fanno appunto propendere per questa che più che un'ipotesi io ritengo sia ormai una certezza Un fenomeno costante che abbiamo rilevato è quello dell'infiltrazione della criminalità organizzata nelle società di gestione dei rifiuti La criminalità si infiltra per permettere alle proprie persone di lavorare e aiuta gli imprenditori a smaltire i rifiuti in maniera illecita creando un'alleanza pericolosa è quanto ha dichiarato il procuratore di Bari Roberto Rossi nel corso della sua audizione in commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connessa al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari Parlare della Puglia come di nuova terra dei fuochi è un dato di realtà i danni sono notevolissimi Il traffico è enorme, sta provocando danni enormi alla Puglia Bisogna sollecitare il controllo delle forze dell'ordine sui camion che trasportano i rifiuti ha proseguito e concluso il procuratore di Bari Roberto Rossi Mentre il capo clan Savinuccio Parisi risponde alle domande del GIP dicendo di non aver mai conosciuto l'ex consigliere regionale in una intercettazione ambientale emerge che Giacomo Olivieri si sarebbe più volte definito intoccabile Questi gli ultimi dettagli dell'inchiesta della DDA codice interno che lunedì ha portato alla luce la rete tra mafia politica e colletti bianchi nel capologo pugliese con 135 arresti Tu sai che mio suocero opera ha salvato la vita al fratello di Savinuccio? Tu sai che io sono un intoccabile, te lo sei dimenticato? Sono le parole che Giacomo Olivieri, ex consigliere regionale pugliese in carcere da lunedì con l'accusa di scambio elettorale politico mafioso alle elezioni comunali di Bari 2019 che portarono all'elezione della moglie Maria Carmelo Russo finita ai domiciliari con la lista di re la sindaco usava per se stesso in un soliloquio intercettato dalla magistratura Secondo le carte dell'inchiesta condotta dalla DDA che ha portato a 135 misure cautelari Olivieri avrebbe avuto le capacità di condizionare e strumentalizzare anche settori delle forze dell'ordine come nel caso in cui avrebbe detto alla moglie di aver avuto da quello della Guardia di Finanza informazioni su un blitz a cui si sarebbe dovuto dare esecuzione il 20 giugno 2019 su presunte partite di calcio truccate a detta di Olivieri il finanziere le avrebbe chiesto anche se avesse un giornalista fidato al quale dare la notizia domanda alla quale l'ex consigliere avrebbe risposto facendo il nome dell'allora direttore della sua testata online dal punto di vista dei clan emergono nuovi dettagli sulla capacità dei Parisi di entrare nelle ex municipalizzate l'Amtab, l'azienda dei trasporti pubblici, prima tra tutti a raccontare agli inquirenti i meccanismi con cui i Parisi avrebbero usato l'azienda come un ufficio di collocamento e l'ex dipendente e collaboratore di giustizia Nicola De Santis assumevano i raccomandati vicino ai clan ha spiegato nessuna speranza per i laureati e proprio dal fronte Parisi il capo clan Savinuccio ha deciso di rispondere alle domande degli inquirenti dichiarando di non aver mai incontrato né conosciuto l'avvocato Giacomo Olivieri o suo suocero il medico Vito Lorusso e di non aver mai avuto alcun ruolo nella faida di Iapigia del 2017 né nella gestione del clan negli ultimi anni una perizia dei carabinieri del SIS di Bari è stata effettuata sull'auto di Cosima D'Amato la pensionata il cui cadavere carbonizzato venne trovato nella villetta di San Michele Salentino e per il cui omicidio è stato arrestato il figlio a oltre 5 mesi dall'omicidio non è ancora chiaro in che modo Alberto Villani 47 anni abbia ucciso la madre Cosima D'Amato di 71 il cui cadavere venne trovato carbonizzato il 20 settembre dello scorso anno nella sua villetta alla periferia di San Michele Salentino l'esame autoptico ha infatti rivelato che la donna era già morta quando il figlio ha dato fuoco all'appartamento nella sua trachea non c'erano tracce di monossido di carbonio segno che già non respirava più per appurare se sia stata uccisa in casa o se invece l'omicidio sia avvenuto nella Fiat Panda della donna con la quale più volte Villani è stato visto muoversi prima e dopo il delitto il PM Alfredo Manca ha chiesto ai carabinieri della sezione investigazioni scientifiche di Bari di effettuare un'ispezione accurata dell'utilitaria alla ricerca di eventuali tracce biologiche collegabili con il delitto la vettura si trova sotto sequestro all'interno della caserma dei carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni ai rilievi ha preso parte anche la consulente genetista Giacoma Mongelli che si era già occupata di estrarre e comparare il DNA del corpo carbonizzato dell'anziana per raggiungere la certezza sulla sua identità all'esito della perizia è probabile che la procura chiuda le indagini preliminari e chieda il rinvia giudizio di Villani che già era stato arrestato perché quell'anziana madre prima di ucciderla l'aveva più volte picchiata selvaggiamente l'uomo è in carcere dal giorno del delitto Continuano le indagini riguardo la morte di Mattia Ottaviano il collaudatore 36enne di Tuglia è morto in seguito ad uno scontro sulla pista del Nardot Technical Center la Guardia di Finanza ha eseguito una perquisizione informatica Una perquisizione informatica è stata eseguita dai finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Lecce nella giornata di mercoledì all'interno del Nardot Technical Center il centro prove dove il 21 febbraio scorso Mattia Ottaviano giovane collaudatore 36enne originario di Tuglia mentre era impegnato a testare una Ducati Panigale ha perso la vita in seguito all'impatto con una Porsche Panamera le fiamme gialle salentine hanno acquisito immagini, carte, documenti e file che saranno utili per ulteriori accertamenti finalizzati a definire con precisione le tipologie contrattuali e i dettagli sulle mansioni svolte dai lavoratori all'interno del circuito e le modalità operative seguite per i test drive la Procura di Lecce quindi ha deciso di estendere le indagini su ulteriori elementi per non tralasciare nulla la polizia locale di Nardot invece alla quale sono stati affidati i rilievi del sinistro continua ad indagare insieme agli operatori dello Spesal dell'ASL di Lecce per ricostruirne la dinamica subito dopo l'episodio infatti è stata aperta un'inchiesta per omicidio colposo coordinata dal PM di turno Alessandro Prontera nella quale risulta indagato in quanto atto dovuto il conducente del veicolo coinvolto nel sinistro un 52enne di Novoli si attendono inoltre i risultati dell'autopsia eseguita sul corpo del 36enne e la perizia sulle scatole nere montate a bordo dei due veicoli che potranno fornire ulteriori elementi utili per le indagini Chiusa la partita in casa a centro-destra Forza Italia riconferma i due uscenti Bardi e Cirio ha prevalso il buonsenso ha detto Antonio Tajani il centro-sinistra dopo la vittoria in Sardegna guarda con più attenzione al campo largo I presidenti di Basilicata, Piemonte ed Umbria che hanno ben governato saranno i candidati di tutto il centro-destra unito ai prossimi appuntamenti elettorali regionali con questa nota congiunta il centro-destra mette la parola fine alle polemiche soprattutto dopo la mara sconfitta Sarda Bardi, Cirio e Tesei vengono dunque riconfermati però rafforza la coalizione rafforza i candidati è una candidatura fatta con anticipo permette di pianificare la campagna elettorale di allargare anche i consensi di allargare l'aggregazione noi guardiamo a tutte le forze di centro per quello che riguarda i nostri due candidati che sono Bardi e Cirio allargare i confini della coalizione centro-destra per avere noi il campo più largo possibile ma anche in casa centro-sinistra si prepara la partita la vittoria del campo largo in Sardegna ha aperto di fatto la strada possibili nuove alleanze in vista di Abruzzo, Piemonte e Basilicata per vincere Pentastellati e PD di Elish Line devono restare insieme così come AWS lo stesso Carlo Calenda ha aperto al dialogo con Giuseppe Conte ci stiamo assolutamente lavorando quindi noi cercheremo di favore degli accordi ovunque possibile ma adesso più che di Piemonte e Basilicata parliamo di Abruzzo perché la competizione elettorale è più imminente dobbiamo assolutamente concentrarci con tutto il nostro impegno tutta la nostra credibilità per l'Abruzzo Uniti si vince questa è la strada da percorrere adesso abbiamo da affrontare la grande sfida dell'Abruzzo si può vincere in Abruzzo Alleanza Verdi e Sinistra è una forza determinante per la futura alleanza e questa destra è in grande grande difficoltà litigano tra di loro il ministro Crosetto attacca Salvini Salvini attacca il ministro Crosetto sono giunti al capolinea Nuova fumata nera in Regione Puglia bisognerà aspettare la prossima settimana per capire se il centro-sinistra troverà o no la sintesi sulle commissioni consigliari di Via Gentele in cima ai nodi da sciogliere c'è la posizione dei centristi di azione E ancora fumata nera in Regione bisognerà aspettare la prossima settimana per capire se il centro-sinistra troverà o meno la sintesi sulle commissioni consigliari di Via Gentile il consiglio dell'escorsione è stato rinviato ma il lavoro della massima assemblea non è fermo ha precisato a più riprese la presidente Loredana Capone il risultato in compenso non cambia il liberi tutti ufficiale è scattato ormai un mese fa le presidenze sono scadute ormai da otto mesi visto che andrebbero rinnovate come prevede lo statuto e la maggioranza chiede tempo d'altro canto nelle precedenti due convocazioni è mancato il numero legale costringendo il centro-destra a chiedere di riunire gli organismi a oltranza con tanto di accuse incrociate e conferenza stampa della minoranza il primo dei nodi resta quello della commissione bilancio ad appannaggio di Fabiano Amati leader di azione gruppo che non viene considerato in maggioranza del resto del centro-sinistra nonostante l'intergruppo con i civici di Perla Puglia tanto più dal momento che a Brindisi governa con il centro-destra quindi PD, Civiche e 5 Stelle chiedono che la presidenza venga assegnata comunque ad altro consigliere meglio se dei DEM e lasciando la seconda commissione a CON il governatore Michele Emiliano Media con le comunali alle porte potrebbe essere poco cauto rompere con i centristi ancora qualche giorno e poi si cercherà di nuovo la soluzione discutere dell'ipotesi di piattaforma sindacale per il rinnovo del contratto nazionale dei metalmeccanici 2024-2027 questo il tema al centro del consiglio generale della FIMCISL Basilicata che si è svolto a Potenza una piattaforma ambiziosa che interessa oltre un milione e mezzo di lavoratori in Italia che prepara le condizioni per il rinnovo del contratto nazionale dei metalmeccanici puntando su vari aspetti due su tutti salario e orario di lavoro ma anche formazione sicurezza parità di genere premi di produttività diritto allo studio ferie permesse e altre condizioni di questo si è discusso a Potenza durante il consiglio generale della FIMCISL Basilicata il nostro consiglio generale di oggi con la RSU parlerà e entrerà nel merito dell'ipotesi della piattaforma i punti sono molti dalla sicurezza al salario oppure all'orario la cosa che dà subito agli occhi è il discorso della riduzione dell'orario del lavoro noi da anni stiamo parlando che ci può essere una sperimentazione per capire le aziende che lo possono fare e le aziende che devono attendere finché si potrebbe fare questo darebbe forza alle famiglie vivere diversamente con questi lavoratori che sono impegnati o sulla catena di mondaggio o altre lavorazioni e quindi assillati dal lavoro i lavoratori fanno questo tipo di richiesta su questo contratto cioè l'aumento salariale che è la cosa importante diciamo che serve per mantenere uno status per quanto riguarda la parte economica e poi soprattutto per quanto riguarda la riduzione dell'orario di lavoro che oggi diciamo è diventata forse la parte fondamentale di questo contratto Camera di Commercio Taranto Brindisi inizia l'era del presidente Vincenzo Cesareo che ai nostri microfoni dichiara sto realizzando un sogno si apre la nuova era della Camera di Commercio accorpata a Brindisi Taranto il primo presidente Vincenzo Cesareo presidente di Agromet e già presidente di Confindustria Ionica l'elezione è avvenuta nella sede della cittadella delle imprese a Taranto una giornata storica e un capitolo che si apre sulla base della fusione tra due enti in ottimo stato di salute come hanno sottolineato in apertura di riunione i commissari uscenti Antonio D'Amore per Brindisi e Gianfranco Chiarelli per Taranto l'incontro si è aperto con le parole del consigliere anziano Domenico D'Amico poi le votazioni e le elezioni di Cesareo al vertice visibilmente commosso che ha dichiarato ho realizzato un sogno dopo Confindustria Camera di Commercio di Brindisi e Taranto una sfida importante che arriva anche in un momento particolarmente importante della mia vita e della mia vita professionale sicuramente sì sono molto emozionato e desideroso di portare avanti questa sfida ho una squadra meravigliosa un consiglio che mi ha votato a larga maggioranza per cui non posso non voglio assolutamente deludere la fiducia di chi la riposta in me priorità su Taranto ce ne sono tante abbiamo delle vicende che sono aperte che sono ILVA abbiamo la vicenda del Comune abbiamo la vicenda di istituzioni che parlano poco fra di loro su Brindisi immagino che vi siano delle condizioni abbastanza simili sulle quali andare a lavorare ma sulle quali ho bisogno di conoscere un po' meglio i player e i protagonisti perché ovviamente essendo di Taranto non ho perfetta conoscenza di quel di Brindisi ma mi farò supportare da chi è di Brindisi perché insomma in qualche modo si possa entrare rapidamente in partita e intanto non si ferma la protesta dei trattori arrivano a Bari gli agricoltori del CRE e annunciano iniziative più forti in mancanza di risposte sono arrivati da Noci lungo viaggio per i trattori e gli agricoltori del CRE comitato riuniti agricoltori per rivendicare i loro diritti chiedere aiuto al governo lanciare un appello e sensibilizzare tutte le istituzioni anche quelle regionali e locali puntando anche sulla diversità delle caratteristiche del loro lavoro tra i diversi territori e quindi chiedendo un impegno sinergico ma anche specifico in rispondenza delle peculiarità locali stop alle imposizioni della comunità europea sui nostri terreni ogni zona d'Italia ed Europa ha delle peculiarità non si può generalizzare primo per secondo punto la giusta remunerazione ai nostri prodotti noi non possiamo continuare a produrre sotto costo non ce la facciamo più e non ci fermeremo qui inoltre la sburocratizzazione a tutti i livelli agricoli e non delle pratiche di quant'altro ci circonda in mancanza di risposte qual è il programma? Continuerete? Quali altre direzioni percorrerete? Continueremo certamente sì e non più con proteste pacifiche bloccando in porti e strade Assemblea lavoratori in gallina di Brindisi una vertenza che parte da lontano e che tocca i temi della sicurezza sul lavoro non è che dobbiamo aspettare che succeda il morto per poi piangerne le conseguenze quindi chiediamo un immediato intervento degli organi preposti in primis l'acquedotto a mettere fine a questa mattanza perché di una mattanza si tratta di ore su pochi lavoratori e tra l'altro sono stati pure licenziati alcuni lavoratori a tempo determinato dopo un anno di lavoro perché l'azienda vuole fare cassa e carica tutto su pochi lavoratori a tempo indeterminato questa è un'ingiustizia che il governo della città l'acquedotto e tutti i preposti devono risolvere e questo è il grido d'allarme lanciato dai sindacati di categoria Fenial Will Filca Cisl e Filea CGL in relazione alla vertenza in gallina che parte da lontano e che non ha ancora trovato una soluzione con un accordo sindacale che preveda la tutela dei lavoratori dal punto di vista della sicurezza ma anche dal punto di vista economico avete visto Corso Umberto avete visto le zone dove hanno fatto questi lavori dove naturalmente i lavoratori non dico hanno fatto 24 ore ma quasi e si legge dalle loro app perché scaricano le app sul telefono delle presenze addirittura spesso e volentieri non si fa fermare la sosta agli stessi lavoratori per dare continuità alle attività poi alla fine si scopre pure e quindi la rabbia dei lavoratori che oltre alla mancanza di tranquillità e quindi di sicurezza nei cantieri in questo cantiero in particolar modo scoprono che con le buste paghe non ricevono i pagamenti dello straordinario c'è un interesse unilaterale dell'azienda a farli lavorare fuori dalle regole contrattuali e quant'altro e poi non riconosce agli stessi perché non può farlo tecnicamente e amministrativamente quello che è il dovuto ai lavoratori il mercato immobiliare è in flessione in Basilicata secondo i dati 2023 comprare una casa a Matera costa di più rispetto a Potenza dove però crescono le compravendite soprattutto delle seconde e terze case i dati dunque sul mercato immobiliare Lucano un mercato quello immobiliare in Basilicata che presenta una flessione rispetto al 2023 con un 10% in meno di compravendite sono i dati resi noti a Potenza dalla Federazione degli agenti immobiliari professionali che ha registrato una diminuzione delle transazioni calcolate in 2969 nei primi nove mesi dell'anno passato noi abbiamo fatto una fotografia dei valori del mercato immobiliare con un confronto con gli anni passati la richiesta di acquisto c'è c'è sempre stata e continua ad esserci perché la casa è come il pane e quindi le persone ne hanno necessità la casa è richiesta e i tassi seppur sono cresciuti un po' l'anomalia non è il tassi attuale l'anomalia erano i tassi precedenti che erano intorno all'1 all'1,50 oggi siamo a un tasso in questo momento al 2,90 fisso per quanto riguarda tipologie e costi mentre a Potenza cresce la richiesta di seconde e terze case a Matera il mercato è diretto prevalentemente verso le prime abitazioni a prezzi però molto più elevati che arrivano a toccare anche i 5.000 euro a metro quadrato tra Potenza e Matera abbiamo un divario importante perché per esempio faccio un esempio sul nuovo a Potenza siamo intorno tra i 2,2 e i 2,4 come valore metro quadro a Matera siamo dai 3 ai 4.000 euro quindi c'è un divario importante a Potenza si compra molto la seconda casa perché la locazione è molto richiesta il mercato immobiliare Materano è più spinto e più verso l'acquisto di prime case nella periferia abbiamo prezzi che partono ultimamente dai 3.000 euro a metro quadro e arrivano al centro addirittura ai 5.000 euro a metro quadro Il presidente della FIGC e il governatore di Puglia Michele Emiliano hanno effettuato un sopralluogo allo stadio di Faggiano individuare una soluzione consona alle esigenze della tifoseria e della squadra durante il biegno di ristrutturazione dello Iacovone il Taranto deve restare allo Iacovone questa la volontà comune la struttura di Faggiano potrà tornare utile per gli allenamenti Il Taranto deve continuare a giocare a Taranto anche durante il periodo di ristrutturazione dello stadio Erasmo Iacovone una linea guida che accomuna le istituzioni a Faggiano per un sopralluogo all'impianto sportivo c'era il presidente della federazione italiana di gioco calcio Gabriele Gravina il governatore di Puglia Michele Emiliano oltre al sindaco della cittadina e provincia di Taranto Cardea e i vertici del Taranto Football Club il presidente Giove il vicepresidente Sapia giocare allo Iacovone la cui ristrutturazione dovrà essere effettuata a settori mentre qualora non dovesse essere possibile disputare gli allenamenti al campo B allora l'ipotesi Faggiano prende corpo e adesso dobbiamo concentrare l'attenzione su due fatti importanti che il Taranto possa giocare all'interno dello stadio anche con una limitazione dei suoi tifosi per non sannaturare il sradicare dalla sua naturale sede la passione di tanti tarantini e contemporaneamente attivare tutti i meccanismi e qui anche noi faremo la nostra parte come ho già detto in altre occasioni affinché ci sia la realizzazione di un centro sportivo visto il progetto mi sembra un progetto molto bello ovviamente sono qui con lo stesso scopo che è principalmente quello di consentire ai tifosi tarantini di andare a vedere le partite del Taranto a Taranto la regione Puglia è disponibile immagino assieme ad altri soggetti per realizzare un progetto che è già in corso con il comune di Faggiano tra il Taranto e il comune di Faggiano per la realizzazione di qualche cosa di più il Taranto deve giocare allo Iacoboni facciamo lo stadio a settori come è stato fatto in tutte le parti d'Europa in tutte le parti del mondo con una ristrutturazione graduale e si fa poi è chiaro a dividendi io non sono nessuno io sono solamente il presidente del club deciderà il governo deciderà Bode ci sarà un tavolo di concertazione di riunione cioè il commissario Ferrarese io ho messo a disposizione tutto ciò che possiamo fare uffici comunali per far sì che il Taranto possa diciamo vivere momenti migliori ed è tutto il nostro OTG interregionale termina qui grazie per averci scelto per averci seguito tra pochissimo l'informazione dedicata a Bari Bat e Foggia rimani connesso scarica gratuitamente dagli store o tramite QR code la nuova app di Antenna Sud più veloce e con più funzioni per essere aggiornato in tempo reale sulle news di Puglia e Basilicata seguire in streaming i nostri programmi o rivederli on demand da qualsiasi dispositivo grazie a tutti grazie a tutti